La maggiorazione sociale dipende dall'età, quindi si può aumentare la maggiorazione sociale a partire dai 60 anni, 65 e 70 anni, sempre legato al limite di reddito. Farò un altro video dove spiegherò nel dettaglio quale sarà l'importo della maggiorazione aspettante e quali sono i limiti di reddito da non superare.